Ciao, sono Giulia Camardo, ho seguito all'IAC il corso di Architecture for Heritage nell'anno 2021 e attualmente mi trovo a Lisbona, verso lo studio di Irish Mateusz. Durante il percorso all'IAC ho avuto l'opportunità di sentire la presentazione di George Silva. Già quell'esperienza, già conoscerli attraverso le parole di chi lavora qua mi avevano colpita e ispirata, tra virgolette, anche per il progetto che abbiamo fatto durante l'IAC. Si crea comunque una sorta di network tra ragazzi che vengono più o meno da tutta Italia e da tutta Europa. Ho trovato attraverso l'Academy la possibilità di entrare da Irish Mateusz e quindi l'ho colta subito.